In Antartide scriveteci community.italia, chioccelarai.it Ora in Antartide non lo so se arrivano i nostri corrispondenti però per esempio a Boston ne abbiamo uno, si chiama Stefano Salimbeni lo ritroviamo, è un ex corrispondente della RAI International ci racconta la storia e come la comunità italiana di Boston sta vivendo questo periodo natalizio di feste Nonostante Babbo Natale arrivi in elicottero e sfili in parata per le strade del quartiere italiano di Boston con personaggi che con le festività ben poco hanno a che fare la comunità, dagli oriundi di vecchia data e immigrati più recenti non sembra voler rinunciare alle tradizioni di casa propria Il presepio, tanto per cominciare ormai vietato in nome della tolleranza religiosa in molte piazze e uffici pubblici d'America ma che resiste nei caffè e nei negozi addobbati di Hannover Street vero e proprio corso della Little Italy bostoniana e che in città trova la sua massima espressione al santuario Don Orione di East Boston fondato negli anni 50 del secolo scorso e sostenuto quasi per intero da donazioni di emigranti italiani Ma è un continuo via vai, la gente viene per salutare la Madonna e ovviamente scendere giù e vedere il presepio meccanico che è stata l'ultima realizzazione del nostro padre Rocco Come è vissuto il Natale dalla comunità italiana qui a Bosco? È molto sentito il ricordo del Natale al loro paese riaccende il fervore Quest'anno il Consolato ci ha messo di suo riunendo la comunità al Sacro Cuore un tempo parrocchia fulcro del quartiere italiano di North End e ora semplice luogo di culto sotto il segno del bel canto in un concerto natalizio eseguito dai giovani del Conservatorio del New England accompagnati dalla pianista Patty Thome che conclude in bellezza la lunga lista di eventi tenuti nel 2013 a non lo ricordiamo della cultura italiana negli USA E dopo aver nutrito lo spirito le suggestioni natalizie, si sa, qui come altrove passano per il palato così sotto le feste la ricerca dei sapori italiani autentici diventa più intensa e approfondita che mai Strufoli ne vendiamo tanti i bustaccioli adesso impastati ho fatto la prova e sono bellissime non li ho finiti domani mattina con cioccolato e senza cioccolato e stralli non è più come una volta la gente va fuori, va in Italia e naturalmente provano, vengono e vogliono e lei glielo dà? eh, certamente è esigente il cliente del Norte Andro? sì, sì, vogliono il vero prodotto d'Italia vogliono quella secezione che stanno in Italia dal nord al sud sai i prodotti di Puglia ci stanno le panettone della Sicilia con uva, panettone di Napoli noi qua aiutiamo per cucinare questo pranzo buonissimo e tradizionale che cosa mangiano? gli italiani di Boston a Natale? eh, chiaramente c'è questa famosa cena dei sette pesci le seppie, i calamari i gamberetti fatti in diversi modi il baccalà ma la mia clientela è un po' più leggera e di solito come pasta gli faccio sempre un bel piatto di linguine con una sassetta al pomodoro e basilico a base di cozze, vongole, calamari e gamberetti questo vigilia o giorno di Natale? c'è una differenza? vigilia, la vigilia perché ti devo convidare a Natale io sto a casa chiudiamo insomma, tra le contaminazioni culturali della società globalizzata a Natale il cuore e la tavola degli italiani si tingono di tricolore per ricordare insieme alla nascita del bambino Gesù anche e soprattutto le proprie origini ci è venuto a trovare e saluto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti